Cari amici e fratelli, pace del Signore Gesù, eccoci nuovamente insieme per un'altra trasmissione con i culti della nuova era, cioè quelli registrati nella nostra comunità a partire dal 9 settembre 2001. Vi auguro dunque un buon ascolto nella pace del nostro Signore Gesù. Alleluia, benedetto il tuo Santissimo nome Signore, così per tua volontà come tu Signore hai stabilito fin dalla fondazione, anzi prima della fondazione del mondo, perché Signore tu avevi ogni cosa chiara davanti a te, quindi Signore tu già vedevi questi tempi, Signore questi pericoli a livello spirituale e anche materiale, fisico, alleluia gloria al tuo nome provvedevi per ogni cosa. Quindi questa sera Signore per te non è una novità trovarci in questo luogo e adorarti. Signore no, tutto è stato scritto, stabilito da te, alla barachita la matan dalla massa, alleluia gloria al tuo nome, quindi oh Signore siamo qui per fare la tua volontà e per offrirti anche questa sera il vero sacrificio della lode, sia a te Padre che a Gesù, benedetti in eterno. Alleluia, amén. Alleluia, amén. E mamma mia, il figlio Gesù, con le gioie niente a me, dirò che lui, con gli angeli in eterno, a consolare nella gioia questo cuore. Il figlio a noi, riguardiamo nella vita, così che in Cielo Gesù mani connerà. La carità, il figlio l'avrò nel cuore, e pace avrò per la sua benignità. La carità, il figlio l'avrò nel cuore, e pace avrò per la sua benignità. Nel mio Gesù, con le gioie niente a me, dirò per lui, con gli angeli in eterno, a consolare nel riposo questo cuore. Nel mio Gesù, con le gioie niente a me, dirò per la sua benignità. Sempre in Cristo noi che fuori, e fuori di lui, non è fare nopre cuore, guardando a me, guardando a me, come al giusto che verrà. Andrò lassù, per i verbi, quanti fiori, e canti un po' per venire la città. Mi condurrà, il Signore eterno amaro, e dell'amore, alla fonte sua per noi. Il Signore eterno amaro, e del Signore eterno amaro, e del Signore eterno amaro. Nel mio Gesù, con le gioie niente a me, dirò per lui, con gli angeli in eterno, a consolare nel riposo questo cuore. Allora, la spiegazione da parte del Signore, tramite lo Spirito Santo, le cose rimangono sempre nascoste, o capite sempre in parte. Allora, a me? Fratelli, or che il Signore ci ha spiegato veramente qual è la natura di Dio, ecco, che è luce, e che ci ha spiegato come è venuto all'esistenza questo sole divino, ognuno, eh? Non ci interessa. Alleluia. A me gloria all'altissimo. Pensate che effettivamente, in base alla rivelazione che il Signore ci ha dato, noi stiamo conoscendo effettivamente la realtà delle cose. Quindi, perché guardate, questi cantici, come pure, diciamo, quando Gesù diceva io sono la luce del mondo, la vera luce, vedete, però nessuno riusciva a capire effettivamente. Per dire, ecco, luce, ecco, si è sempre intesa, capita la cosa, come luce per dire è verità. Amen? Perché dici, chi cammina nelle denebre, cioè nell'errore, per dire, no? Quindi si è intesa la cosa soltanto come verità, invece Gesù è veramente luce. Alleluia. Amen? Quindi, e allora, è il Signore, vedete, per farci capire come stanno le cose. Ma perché, vedete, gloria all'altissimo? Perché effettivamente, fratelli, se il Signore non ci avesse rivelato e non ci stesse continuando a rivelare anche la sua natura, noi, vedete, entreremmo nel Regno dei Cieli impreparati. Alleluia. E il Signore non ci vuole impreparati. Infatti, al popolo stesso, al suo popolo d'Israele, che lo formò in Egitto, vedete, non l'ha fatto entrare impreparato nella terra promessa. Ci risulta che l'ha fatto entrare impreparato assolutamente, perché per 40 anni l'ha tenuto nel deserto, a me, per ammaestrarlo, per dargli le sue leggi, i suoi comandamenti, gloria a Dio. Amen? E quando, vedete, il popolo fu veramente preparato, allora lo ha introdotto nella terra promessa. Perché, vedete, gloria all'altissimo? Sembra che le cose siano andate così per caso. Invece è stato tutto, è stato l'agire di Dio nella maniera perfetta, nei suoi minimi particolari. Perché, vedete, il fatto che il popolo disubbidì e nessuno di quella generazione entrò nella terra promessa, è vero, perché sono entrati soltanto Giosuè e Caleb nella terra promessa. È giusto, perché tutti gli altri, dici, sono periti tutti, sono morti tutti, la vecchia generazione. Perché i fratelli sono morti tutta la vecchia generazione? Perché la vecchia generazione, essendo nata e cresciuta in un ambiente pagano, idolatra, quindi quelle leggi che Dio gli ha dato, non venivano accettate di buon cuore. Perché erano loro nati e cresciuti in un ambiente idolatra. Quindi, ora, improvvisamente, vedete, servire questo nuovo, questo vero Dio, in maniera diversa, allora, a loro è venuto difficile. Amen? E quindi facilmente, vedete, cadevano nella trasgressione. Invece, la nuova generazione, seguitemi attentamente, perché questa è pura spiegazione da parte del Signore che mi sta dando. Alleluia. La nuova generazione, perché entro la nuova generazione, anche se disubbidienti pure loro, però, la nuova generazione, seguitemi attentamente, è nata, è cresciuta in un ambiente, ora, prettamente spirituale. Perché? Alla guida di Mosè, diciamo, eh, con le nuove leggi date da Dio. Amen? Vedete? Quindi, ora che, anche ripeto, se sono stati e continuano ad essere disubbidienti, però, dice il Signore, io la mia legge ve l'ho data. Voi non siete nati e cresciuti in un ambiente pagano. Voi siete nati in un ambiente, e cresciuti in un ambiente veramente sano, spirituale, perché io vi ho fatti uscire dall'Egitto, vi ho fatti nascere, quindi, come bambini, vi ho dato del latte, vi ho nutriti, fisicamente ed anche spiritualmente. Ora, chi non vuole più, diciamo, attingere alla vera fonte dell'acqua della vita, non attinge. Io mi sono fatto conoscere, e Dio, vedete, si è fatto conoscere quando, appunto, sul monte Sinai, era tutto, diciamo, in fiamme, tutto fumante, il monte tremava, e tutti gli israeliti ebbero paura. Allora, gloria a Dio, vedete, perché si è fatto conoscere, non come un Dio pagano, ma il vero Dio, alleluia, che era, dice, e lui scese nel fuoco, alleluia. E Mosè stesso lo vide nel fuoco, che bruciava il roveto, e dice, non si consumava, gloria a Dio. Quindi, ecco, il Signore, quindi, vedete, in questi ultimi tempi ci sta ammaestrando per prepararci veramente, sia per il millennio, che per i nuovi cieli e la nuova terra. E allora? Si è glorificato il Dio. Si è glorificato il Dio. Perché, vedete, quelli che sono stati prima di noi, il tempo era prematuro. Quindi, il Signore non li poteva ammaestrare, come ci sta ammaestrando oggi. Non perché ne oggi siamo più scarci, più intelligenti, perché il tempo non era adatto, ancora era prematuro. Ora che vedete che i tempi si maturano, che il tempo si matura, allora il Signore che cosa fa? Ci ammaestra, in modo tale che dopo averci preparato, diciamo, a livello spirituale, con una conoscenza reale, ci possa scegliere per affidarci dei compiti ben precisi. Infatti, guardate, i 144.000 che il Signore sceglie, non è che li sceglie, alleluia, Dopo la sua nascita, morte e risurrezione. Vedete? Perché non li ha scelti? A quelli di prima li ha scelti per compiti diversi. Quindi, oggi, allora, perché vedete, quelli del passato non hanno ricevuto gli insegnamenti che stiamo ricevendo noi. Quindi loro, giustamente, saranno pure salvati, ma salvati per quella conoscenza che Dio gli ha dato per quei tempi. A me, gloria al Signore. Allora, noi saremo salvati e scelti per la conoscenza che il Signore ci sta dando al presente. Amen? Quindi, quando noi ora cantiamo Ecco la luce di Dio appare, già abbiamo una visione chiara, nitida, del perché. Non è, diciamo, una fantasia, perché sapete, come che fanno le canzoni, no? O le poesie. Lì, le compongono con della fantasia. Amen? È giusto? Canzone e poesie è tutta fantasia, no? Quindi, ci sono quelle persone dotate, diciamo, di quella sapienza, di quella vista, ecco, che li eleva nel loro animo. Amen? Allora, si esprimono con delle canzoni, con delle poesie. Amen? Gloria al Signore. Non è cosa da tutti. Non tutti potremmo fare un Giuseppe Caducci, oppure un Giovanna Pascoli. Oppure un Dante Alighieri. Insomma, ognuno cosa... Ecco, vedete, gloria a Dio. Amen? Vogliamo andare in preghiera. Alleluia. Amen? Alleluia. Che il Signore ci possa continuare a guidare con lo Spirito Suo Santo. Alleluia. Grazie, Padre. Grazie, Gesù, per la Tua presenza. Come sempre, che, Signore, non manchi mai. Alleluia. Tu sei sempre presente. Alleluia. Anche quando noi siamo assenti. Abba chita, canda, scita la maia. Ora di che anda la maia. Alleluia. Daci, o Signore, un vero cuore nuovo. Ora di che anda la maia. I dati da uno Spirito, Signore, nuovo. Ora di che anda la maia. Ora di me. Alleluia. Che ti possiamo onorare tutti insieme. Come gli angeli del cielo. Ora e sempre in eterno. Alleluia. Amen. 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 Amore. 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 E tanta pace e gioia e libertà. Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Dove due o tre sono radunati nel mio nome, lì c'è la mia presenza. Alleluia. Quindi nessuno dica che non c'è Gesù. Alleluia. Perché se noi siamo completamente assenti, tutti assenti, allora non c'è. Ma se a meno due o tre siamo presenti con la mente, col cuore, allora Gesù è presente pure. Alleluia. Amen. Alleluia. E così sia glorificato Dio anche questa sera. Alleluia. Vogliamo leggere la sua parola come lui l'ha stabilita. Alleluia. Alleluia. Qua. L'Evangelo di Luca capitolo 20 e dal versetto 9. Poi cominciò a raccontare al popolo questa parabola, cioè Gesù. Un uomo piantò una vigna, la fidò a certi vignaioli e se ne andò lontano per lungo tempo. Al tempo del raccolto, mandò un servo da quei vignaioli perché gli dessero la sua parte del frutto della vigna. Ma i vignaioli, battutolo, lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò di nuovo un altro servo, ma essi dopo averlo battuto ed insultato, anche questo lo rimandarono a mani vuote. Egli ne mandò ancora un terzo, ma essi ferirono anche questo e lo cacciarono. Allora il padrone della vigna disse, che devo fare? Manderò il mio amato figlio, forse vedendo lui lo rispetteranno. Ma i vignaioli, quando lo videro, dissero tra di loro, costui è l'erede. Venite, uccidiamolo affinché l'eredità diventi nostra. Così, cacciatolo fuori dalla vigna, lo uccisero. Che farà dunque a costoro il padrone della vigna? Egli verrà, sterminerà quei vignaioli ed ero la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, dissero, così non sia. Allora, egli guardandoli in faccia, disse, che cos'è dunque ciò che sta scritto? La pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testa da tangolo? Chiunque cadrà su questo sasso si sfracellerà e colui sul quale esso cadrà sarà stritolato. In quello stesso momento i capi dei sacerdoti e gli scribi cercarono di mettergli le mani addosso perché avevano compreso che aveva raccontato quella parabola per loro, ma temettero il popolo. Essi lo osservavano attentamente e gli mandarono degli sticatori fingendosi giusti. affinché lo sopprendessero in fallo in un suo discorso per poi consegnarlo al potere e all'autorità del governatore, costoro, lo interrogarono dicendo Maestro, noi sappiamo che tu parli ed insegni rettamente e che non usi alcuna parzialità ma insegni la via di Dio in verità. Ci è lecito pagare il tributo a Cesare o no? Ma egli accortosi della loro malizia disse loro perché mi tentate? Mostratemi un denaro. Di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta? Essi rispondendo dissero di Cesare. Allora egli disse e loro rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare. E addio ciò che è di Dio. E così non poterono coglierlo in fallo nel suo discorso davanti al popolo. E meravigliati dalla sua risposta tacquero. Alleluia. Amen. Alleluia. E meravigliati, dice, della sua risposta tacquero. Mostrarono saggezza. Perché, dice, nella moltitudine delle parole sta la colpa. Perché più si parla, fratelli, e più si sbaglia. Quindi il tacere, vedete, è segno di sapienza. Perché, vedete, le persone sagge devono parlare poco e quel poco lo devono quindi tradurre in parole con sapienza. Con la sapienza di Dio, con la saggezza dello Spirito Santo, appunto, che il Signore dà. perché quando si parla troppo, fratelli, non solo che si commettono molti errori, ma il parlar troppo è il segno di persone poco serie. Infatti, quando la gente parla troppo, anche a me che non sogno tanto intelligenti, mi dà fastidio. Quando c'è gente che parla troppo, una cosa passa ad un'altra, subito... Poi suonano tutte cose, tutti sono bravi, tutti sono sapienti, tutti... Danno fastidio. Alleluia. Ricettuate pure o meno i quattro sono. Perché non so, non mi so prolungare neanche, diciamo, oltre le quattro parole. L'indispensabile. Poi, le altre cose, non riesco, non riesco né a dirle né ad ascoltarle. Perché poi mi confuso una testa. E così sono, sapete, pure nel leggere. Infatti, quando io devo leggere delle cose che sono lunghe, già quando guardo una cosa che è lunga, diamo scoraggio nel guardare che è un discorso lungo. Quindi, anche, vedete, perché io, pure nello scrivere, non è che io sono... Diciamo che con tutto parlare e con tutto potuto scrivere. Con tutto parlare e con tutto scrivere. Perché poi si esce fuori tema pure. Perché, infatti, fratelli, se uno sta trattando un argomento, quell'argomento, non credo che abbia bisogno chissà di che cosa. No? Di molte parole, di molte... Ad eccezione, le cose che ci insegna, ecco, il professore, la scuola, il maestro, oppure il signore quando parla, allora lui si prolunga spesso perché non sta parlando con una persona, ma sta parlando con tante persone. Con tante persone che hanno età diverse. È giusto? Pure voi che siete sopra. No? Siete tutti, avete tutta la stessa età? No, vero? Avete tutto lo stesso grado di istruzione? No. La stessa cosa qua sotto. È giusto? Quindi, allora, il signore deve cercare di far capire la stessa cosa, lo stesso argomento che sta trattando, a tutti, piccoli e grandi, e anche a persone che sono meno colte. A me, gloria a Dio, alleluia. E allora, ma vi faccio perché pensate che scegli io il mio signore. Perché io non scegno parlare. Mi esprimo raso terra. Perché se io, perché se io fossi, diciamo, un grande oratore, un parlatore colto, useria vocabolo difficile. E vi faccio venire a arrivare a casa, eh? E gli dice, ma che mi disse stasero fratello? La prossima volta mi porto il vocabolario. Così vediamo, no? Come fanno certi voti in tedele giornale? Tedele giornale. Soprano capire i Gesù le certe cose. No? Perché uno dice, ma che vuole dire sto fatto? Ecco, ora, il signore, vedete, dice questo discorso, questa parentesi. Perché vedete, il signore ci parla, ripeto, per farci capire le cose. In modo tale che quando noi usciamo da questo luogo, non abbiamo a avere la mente confusa. E per dire, ma il signore che cosa ci ha voluto dire questa sera? Amen. Quindi noi, vedete, dobbiamo effettivamente capire quello che il signore ci dice, in modo tale che possiamo assimilare il tutto e serbarlo. Perché vedete, quando noi riceviamo una spiegazione, quindi la assimiliamo, la serbiamo, quella non si cancella più dalla mente. E allora, intanto, questa sera il signore dice, perché proprio mi ha fatto, alleluia, posare lo sguardo, e così dice, non poterno cogliere in fallo nel suo discorso davanti al popolo, e meravigliati della sua risposta, tacquero. Alleluia. Io proprio, guardate, io ho visto in queste persone che hanno taciuto, che poi non sono stati loro ad andare di loro iniziativa da Gesù per metterlo alla prova. Loro sono stati loro ad andare di loro iniziativa da Gesù per metterlo alla prova. Quindi, gli isticatori avevano tutto l'interesse di inasprirlo, di farlo innervosire, in modo tale che lui, sopraffatto dal nervosismo, avrebbe sbagliato. E loro quindi avrebbero trovato, i mandanti, avrebbero trovato l'elemento adatto per poterlo accusare. Invece, ecco, Gesù, vedete, parlò in una maniera sempre, vedete, decisa. E quando lui parlava, non parlava solo, non dava le risposte solo per mettere a tacere chi lo isticava, ma lui dava le risposte per mettere a tacere chi lo isticava e per poter, diciamo, ammaestrare anche i presenti che ascoltavano. A me e te, fratelli. Quindi, il vero saper parlare è quello che contemporaneamente, quando uno, per esempio, deve dare una risposta, contemporaneamente dà la risposta a chi lo provoca. E un ammaestramento a chi, invece, è in buona fede e lo segue. A me lo approva. Gloria a Dio. Alleluia. Quindi, in questa circostanza, perché il Signore ha permesso che scrivessero queste cose? Fratelli, vedete, se queste cose che sono accadute ai giorni di Gesù non fossero verificate nel passato, Gesù magari avrebbe taciuto, magari avrebbe fatto finta di niente. Invece, Gesù, vedete, con questo esempio, ha voluto dare una risposta a quelli di allora. E poiché l'uomo è sempre lo stesso, allora il Signore, guardate, quando parlava allora, dava la risposta a quelli di allora e gli insegnamenti a quelli di allora. Contemporaneamente dà la risposta al tempo presente, alleluia, e gli insegnamenti al tempo presente, pure di quelli che effettivamente lo seguono con interesse, perché vogliono effettivamente capire e vogliono servire il Signore nella giusta maniera. Amen, gloria al Signore. E infatti, ora, dice perché? Perché il Signore, fratelli, prendendo, chiedendo loro una moneta e con denaro, che cosa ha voluto dire? Intanto, la risposta a quelli che l'avevano mandato. Amen? L'ammaestramento ai presenti, è chiaro, non a quelli passati, ma anche ai futuri. Perché se il Signore ha detto, dai a Cesare quello che è di Cesare, allora, eh? Fratelli, oggi noi non ci troviamo nelle medesime condizioni che si trovava Gesù e i veri credenti, allora? L'identica cosa. Alleluia. Perché? Quelli a cui il Signore aveva affidato il compito di ammaestrare i popoli della terra, ma nella maniera giusta, corretta, eh? Invece, vede, sono diventati anche loro, ai nostri giorni, signori e padroni del campo di Dio. Dell'opera di Dio, come lo erano diventati i sacerdoti di allora, gli scribi di allora, i farisei di allora. Fratelli, e oggi ci sono scribi, farisei, sacerdoti, ci sono come ai tempi di Gesù, alleluia. E sono diventati padroni, alleluia, amen, delle cose di Dio, alleluia, amen, gloria all'altissimo. E allora, e poiché, vedete, i veri credenti devono sapere agire in un mondo moderno che poi non è tanto moderno, ma è antico, come ai tempi di Gesù, alleluia. E allora, ai giorni nostri, vedete, non bisogna mai, intanto, chi ha ricevuto da parte del Signore Questo ruolo, questo compito, di amministrare le cose di Dio e di ammaestrare, diciamo, i credenti, deve farlo con la perfetta convinzione che è un operaio nel campo di Dio, non un padrone. Il padrone è solo uno, ed è il Dio, è il suo figliolo Gesù, il Padre gli ha affidato ogni cosa al suo figliolo Gesù. Quindi, vedete, noi, vedete, non dobbiamo, quando ammaestriamo, che il Signore c'è da ammaestrare, che poi, tutto sommato, fratelli, un vero servitore di Dio, eh, non ammaestra con del materiale suo proprio. Un vero servitore di Dio, ammaestra con il materiale che gli fornisce improvvisamente il Signore mediante lo Spirito Santo. Quindi, come si può uno sentire padrone nel campo di Dio, o del campo di Dio, se uno riceve? Allora, vedete, si reputano padroni quelli che effettivamente non ricevono più da parte di Dio. E quindi, attingono alla loro fonte, essendo la loro fonte di Dio su ogni pagione. A me, alleluia, a me, vedete, gloria al Signore. E, ora, questo, quello che il Signore mi sta dando da capire, che ai nostri giorni si sta ripetendo la medesima cosa che è accaduta ai suoi giorni, che poi, se ci fate caso, nei confronti di Gesù agivano tanto i sacerdoti, come gli iscrivi, i farisei, insomma i capanziani, guardate che agivano nella medesima maniera che agivano i sacerdoti dei tempi passati. Cioè, quando c'erano i profeti che effettivamente venivano usati da parte di Dio e allora intervenivano, fratelli, i sacerdoti oppure il re e mettevano a tacere i profeti. Tant'è vero che Gesù un giorno ha detto quando, dice, faranno queste cose quando parleranno male di voi quando vi accuseranno quando vi porteranno davanti ai tribunali quando vi ingiurieranno quando vi malediranno quando vi faranno del male rallegratevi perché il vostro premio, dice, è grande nei cieli perché così hanno fatto con i profeti che sono stati prima di voi vedete, fratelli quindi che sta suonata è sempre la stessa a me dice, con i profeti che sono stati prima di voi vedete che quindi nell'indole umana nel carattere umano proprio che quando ode parlare quando sente la voce dello spirito che parla si ribella non accetta ma si ribella ed ha il coraggio di inveire proprio contro Dio alleluia perché infatti il Signore proprio lì per dire voi non siete dei semplicioni ma voi siete dei malvagi riferendosi si vedete ai sacerdoti agli iscribi ai farisei perché infatti dice dice allora il padrone della vigna della vigna disse dice che devo fare manderò il mio amato figlio ecco perché prima diceva il padre ha mandato i profeti dei profeti avete fatto quello che avete voluto non li avete accettati amén quindi e guardate la stessa cosa hanno fatto con Giovanni e Battista vedete che loro non hanno accettato Giovanni e Battista perché se avessero accettato Giovanni e Battista avrebbero accettato automaticamente anche Gesù tanto è vero che quando Gesù ha rivolto loro quella domanda dice secondo voi il battesimo di Giovanni è venuto dall'uomo o da Dio hanno risposto non lo sappiamo se loro avessero accettato creduto in Giovanni e Battista avrebbero detto da Giovanni e Battista cioè da Dio è venuto è giusto il battesimo di Giovanni e Battista invece non lo sappiamo vedete quindi c'è stata sempre la malvagità la cattiveria alleluia gloria al Signore Gesù alleluia e allora dice il padrone della vigna dice che devo fare manderò il mio amato figlio forse vedendo lui lo rispetteranno ma i vignaiuoli che in questo caso vedete i vignaiuoli erano i sacerdoti principalmente poi i dottori della legge tutti gli anziani ma quelli che avevano diciamo il ruolo più importante erano i sacerdoti era per esempio quando hanno condannato Gesù era Caiafa che aveva questo potere alleluia e allora dice che devo fare forse dice il mio amato figlio lo rispetteranno ma i vignaiuoli quando lo videro dissero tra di loro costui è l'erede venite uccidiamolo affinché l'eredità diventi nostra fratelle ma ci pensate quando l'uomo perde la guida dello Spirito Santo quando perde dell'umiltà quando perde appunto il timore di Dio arriva proprio a mettersi contro Dio benedetto sia l'altissimo ecco l'erede quindi guardate che cattiveria che malizia c'era nel cuore dei sacerdoti degli scribe dei farisei che l'hanno riconosciuto quindi non è dice poveretti ma quelli lì non l'hanno riconosciuto che era il figlio di Dio Gesù con questa parabola glielo ha detto chiaro voi mi avete riconosciuto che sono il figlio di Dio che sono l'erede e voi siccome avete padroneggiato fino ad oggi allora e poiché io sono venuto per non farvi più padroneggiare nel campo di Dio e sugli altri voi per non perdere la vostra ricchezza che vi siete quindi formata accumulata ora dice ecco perché avrebbero perso tutto gloria a Dio loro pensavano guardate loro pensavano che dicendo che Gesù era il figlio di Dio allora tutti i credenti sarebbero passati nelle mani di Gesù quindi avrebbero abbandonato diciamo il tempio avrebbero diciamo abbandonato quella riverenza dovuta agli scrivi ai sacerdoti ai farisei a me gloria a Dio quindi loro dicono qui ci viene a mancare tutto ci farà mancare tutto allora aspetta è meglio che lo eliminiamo invece sono stati stupidi perché se loro effettivamente se tanto sacerdoti quanto scribi dottori della legge avessero accettato Gesù come figlio di Dio perché ripeto loro lo sapevano che era il figlio di Dio perché altrimenti Gesù non si sarebbe espresso con questa parabola se non ci fosse stata la verità la base gloria a Dio quindi ciò significa perché Gesù è quello che leggia nella mente nel cuore degli uomini ripeto perché se loro vedete avessero collaborato con Gesù avrebbero detto ecco il Messia che Dio ci ha promesso e lui Gesù stesso vedete non sarebbe andato in giro a predicare l'Evangelo mi state seguendo Gesù avrebbe predicato l'Evangelo gli insegnamenti i nuovi insegnamenti li avrebbe dati sempre nel Tempio e i sacerdoti vedete sarebbero stati usati da Gesù ora con compiti diversi amè gloria a Dio alleluia perché effettivamente il Signore non gli avrebbe tolto veramente il compito che gli aveva dato non gliel'avrebbe tolto cioè perché in poche parole guardate se i sacerdoti avessero accettato Gesù come figlio di Dio allora il Tempio di Gerusalemme non sarebbe stato raso al suolo successivamente dai romani ma sarebbe stato usato utilizzato come vengono oggi utilizzate le chiese no? le chiese dei credenti uno ci sono i pastori che per non c'è un luogo amén ecco mettiamo in caso se questo locale che il Signore ci ha provveduto e lo possiamo dire ad alta voce è stato Lui amén allora questo locale se il Signore ce l'avesse provveduto eh prima della sua venuta in questo luogo avremmo noi offerto anche sacrifici cruenti cioè sacrifici di sangue sacrifici e ologausti amén allora con la sua venuta quindi la sua morte la sua risurrezione questo luogo Lui lo avrebbe trasformato come oggi amén sono riuscito a farmi capire non sarebbe cambiato il Signore non avrebbe cambiato niente amén il Signore avrebbe lasciato ogni cosa però con ora sistemi diversi per dire ecco l'ultimo sacrificio dice Gesù l'ho compiuto io ora quindi voi continuate ecco in questo luogo ad ammaestrare alleluia offrendo sacrifici di lode come diceva l'Apostolo Piero ci siamo gloria all'Altissimo invece loro vedete sopraffatti e vinti dalla bramosia di essere ossequiati di essere elogiati di essere i padroni ecco di governare su tutti e su tutto dice questo è l'erede uccidiamolo e l'erede sarà nostra invece il Signore che cosa gli ha detto alleluia dice ma i vignaiuoli quando lo videro dissero tra di loro costui e l'erede venite uccidiamolo affinché l'erede sarà nostra così cacciatolo fuori e dice dalla vigna lo uccisero che farà dunque a costore il padrone della vigna egli verrà sterminerà quei vignaiuoli e darà la vigna ad altri ma essi udito ciò dissero così non sia ma allora se voi non volete che la cosa vada così ravvedetevi è giusto gloria a Dio ravvedetevi mentre il signore vi sta dando il tempo perché il signore già ha deliberato eh ha dato la sentenza dici l'eredità sarà tolta e sarà data ad altri alleluia amén gloria all'altissimo eh allora egli guardateli in faccia disse che cos'è dunque ciò che sta scritto la pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testata d'angolo chiunque cadrà su questo sasso si sfracellerà e colui sul quale esso cadrà sarà stritolato fratelle guardate oggi eh oggi se uno chiede a qualcuno a un credente chi è la pietra che gli è scelta da Dio eh voi chiedete a qualcuno in giro dici qui è la pietra sulla quale il signore ha edificato la sua chiesa quindi la pietra qual è tutti rispondere uno peso peso infatti il profeta Isaia parlava di peso capite e pensate che Pietro stesso dice che la pietra angolare è Gesù sul quale l'edificio dice è edificato guardate gli uomini eh se oggi chiedete quando il signore parla la pietra cosa c'è alleluia che cos'è dunque ciò che sta scritto la pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testata d'angolo vedete ecco magari qualche qualche cattologo così diciamo ingenuo dice ecco vedete il signore dice nella sua parola che non accetta peso come pesa cadi stritolato quindi alleluia la pietra angolare alleluia rigettata dagli dagli uomini era ed è Gesù alleluia alleluia e chiunque cadrà su questo sasso dice si sfracellerà e colui sul quale esso cadrà sarà stritolato alleluia in quel momento alleluia i capi vedete i capi dei sacerdoti vedete che erano sempre loro quindi e Gesù li aveva avvertiti dice vedete che se voi non mi accettate che voi avete in mente di uccidermi vedete che il regno vi sarà tolto fratelli e così fu ma perché poi non è successo questo in Israele che il tempio i romani l'hanno distrutto forse da allora in poi si sono offerti in quel tempio che è stato distrutto sacrifici e olocausti li offrono in luoghi diversi ma già il Signore gli ha tolto il regno perché il regno appartiene a Dio tuo dice il regno la potenza e la gloria in sempre eterno alleluia amè in quello stesso il momento i capi i sacerdoti gli iscrivi cercarono di mettergli le mani addosso perché avevano compreso che aveva raccontato quella parabola per loro ma te mettero il popolo allora vedete quindi il Signore ci sta presentando oggi ciò che è accaduto nel passato è quello che sta accadendo ai nostri giorni alleluia amè perché di Gesù separa poco alleluia benedetto sia l'Altissimo essi lo osservano attentamente e gli mandarono degli stigatori che fingendosi giusti lo sorprendessero in fallo in un suo discorso per poi consegnarlo al potere e alla autorità del governatore Costor lo interrogarono dicendo maestro noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e che non usi alcuna parzialità ma insegni la via di Dio in verità guardate che astuzia che furbizia eh eh come Giaccaone di ubbigliare lo cubono finta no alleluia eh ci è lecito pagare il tributo a Cesare o no perché dice ora non appena lui dice no perché lui parla di Dio a Cesare non lo menziona mai quindi guarda ora lui ci dirà no non dovete pagare allora andavano da Palato dicevano questo dice che non dobbiamo pagare le tasse allora saggiamente vedete Gesù alleluia ma egli accortosi della loro malizia disse loro perché mi tentate mostratemi un denaro di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta ed essi rispondendo dissero di Cesare allora egli disse loro rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio sapete quando ho letto questo il Signore mi ha fatto notare una cosa molto importante mostratemi un denaro di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta quindi ai tempi di Gesù le immagini si facevano le immagini si facevano perché c'era l'immagine di Cesare e l'iscrizione di Cesare guardate gloria all'altissimo se ai tempi di Gesù c'era qualche immagine di Abramo di Isacco di Giacobbe di Mosè di Noè eh? no poteva alleluia eh? guardate proprio il Signore mi ha fatto rilevare questo dice vedi ai miei giorni le immagini ce le avevano i pagani non i figlioli di Dio di chi è questa immagine? eh? avrebbero potuto fratelli avrebbero potuto dire guardate avrebbero potuto dire se ci fossero state anche le immagini di Soddi di farisei di scribe o di sacerdote sì tu hai detto bene dai a Cesare quel che è di Cesare ma a Dio quel che è di Dio ma guarda che questa è una moneta che c'è eh eh l'immagine di Abramo ci podia essere l'immagine di Caiafa? ma manco quella scena si guardava bene con tutto Caiafa che è stato colui che ha deliberato la morte di Gesù eh si guardò bene di fare la sua immagine o fare Soddi dalla sua immagine con la sua immagine ma ci pensate gloria a Dio eh guardate i passi che si sono fatti eh da duemila anni in poi ecco perché l'uomo eh vuole regnare su tutti e su tutto e chi stennenti perché ne vedremo delle belle riguardo a questo argomento che Gesù ha aperto questa sera è solo l'inizio ne vedremo delle belle ma belle che sono brutti ma cose brutte che ci renderanno la vita difficile se non impossibile e Dio ci benedica grazie ti vogliamo dire Signore alleluia a Dio nostro e Padre nostro che antivedendo Signore le cose ci avverti per tempo alle Tue glorie al Tuo nome quindi Signore dacci la vera fede che ci possa fare Signore superare ogni ostacolo ed ogni difficoltà provvedici Signore il Tuo pane quotidiano Signore e rimetti veramente a noi i debiti come noi ci stiamo sforzando di rimetterle ai nostri debitori ci preghiamo rimani con noi nelle nostre case nelle nostre famiglie ed in questo luogo santissimo che Ti sei scelto per dimora del Tuo nome e per ammaestrare i popoli della terra te lo chiediamo nel nome di Gesù benedetto con Te in eterno Amen Alleluia Amen e come la mia vita fiorirà cammino con la fede e la speranza e contro quei che appare avrò la nome ti vedo in questo luogo senza nome ma il fine in cielo e Dio mi canse mi canse e questo luogo per me come cura sarà e che il vento si perde non c'è mai tra me prenderà la sua sposa non c'è non c'è non c'è non c'è ma è la sua sposa non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è davanti 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 a Dio che non c'è non c'è la sua sposa non c'è non c'è ma è non c'è non c'è non c'è ma è non c'è che il vento che il vento si perde non c'è 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 E i giusti lo vedranno in allegrezza, ma quelli che trinderanno il fatto, saranno fuori e torne sotto il piede. E questi che rifiutano la grazia, sono come quella di te senza sole, con la brucia di boe e del colore, e in essi la salute manterrà. E questo mondo come me, come cura sarà, che del vento si perde non c'è. Maestra re prenderà la sua scorsa con sé, e con lei la mia vita mi va. Alleluia, gloria al tuo Santissimo nome, grazie Padre Santissimo di tutto, Signore, gloria al tuo nome anche questa sera. Signore, un grazie in verità dal profondo dell'anima, perché Signore come sempre sei stato presente, sei presente. Signore, perdonaci se non ti abbiamo saputo onorare, alleluia, ma Signore, sensibilizzaci in tutto, affinché, Signore, tutto ciò che facciamo, tutto ciò che ti offriamo e facciamo per te, ti sia veramente gradito. Ti sia come suave profumo, te lo chiediamo per amore di te stesso, e per amore di Gesù, che insieme a te lo benediciamo, ora e sempre, in eterno. Amen, Amen, Amen. Abbiamo trasmesso il culto tenutosi nella nostra comunità il 2 novembre del 2014. Questi appuntamenti li potete seguire il martedì e venerdì sera alle ore 21 e 30 e la domenica mattina alle ore 10 e 15 e poi riascoltarli anche in replica. Inoltre questi culti sono a vostra disposizione nella nostra pagina Facebook o sul nostro canale YouTube. Per quanti vogliono mettersi subito in contatto con noi possono farlo attraverso il nostro recapito telefonico, esso è il 349-64-11-232. Per quanti invece vogliono visitarci o scriverci possono farlo al seguente indirizzo. Radio Messaggio Cristiano, via Industriale numero 71, 98-123 Messina. I giorni di culto sono martedì e venerdì ore 18 e 30, mentre la domenica alle ore 18. Bene fratelli ed amici, siamo giunti anche oggi al termine di questa trasmissione. Vi do appuntamento alla prossima e vi saluto con la pace del nostro Signore Gesù. Grazie a tutti. Grazie a tutti.